Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata durante il Grande Fratello Vip, hanno annunciato il loro matrimonio. La cerimonia si terrà l'11 ottobre in Campania, in una location a metà strada tra Roma e la Sicilia, luoghi di origine delle rispettive famiglie. Hanno scelto un matrimonio all'aperto, in stile «bo-chic», con decorazioni bianche e luci. Clizia ha detto, stiamo scegliendo una persona speciale che ci sposi perché sarà una cerimonia civile, Nina e Gabriele saranno i nostri paggetto e damigella, poi ci sarà una sorpresa musicale pazzesca, sì, sarà una notte magica. Recentemente, la ragazza ha condiviso su Instagram foto in abito da sposa con Paolo, anticipando il giorno del sì. Questo gesto ha scatenato reazioni miste, entusiasmo tra i fan e critiche da parte di alcuni, che lo hanno considerato prematuro.